Musica Salve a tutti di Reclute, qui che vi parla è sempre Creepy E quest'oggi ci troviamo nel tredicesimo episodio della Soundlink Pokémon Rosso e Blu Qui con noi ovviamente c'è Ma salve a tutti ragazzi, ecco il Rochette, sempre presente Rochette in la Soundlink Eccolo qui, mi sono un attimo impersonato Reclute oggi Ma sì, ma giusto così E niente Luke, cosa andremo a fare in questo episodio? Finalmente ragazzi, potremo aderirci verso Ebanopoli e fare nuove catture, si spera Non so se riusciamo a fare la palestra, tu che dici? Dipende dal tempo, dipende da quanto rimaniamo incasinati nella grotta gelata Di sicuro faremo nuove catture, anzi, si spera Per forza Non è mai successo che ho provato sfiga, quindi non vorrei cominciare proprio adesso Quindi diciamo che abbiamo allenato i Pokémon, signori miei, a livello 38 E Shaller si è evoluto in Golem Ecco io infatti ho, ragazzi, ho allenato Xato, il mio mystery Fino al 38, seppure è evoluto in appunto come avete Xato Ho imparato la Giorola, l'ho fatto imparare anche voi Sennò come cavolo mi sposto, a piedi non di sicuro Ok Ok, gli UK sono andato a sfidare per sbaglio l'allenatore Comunque, ragazzi, questo qua è il moveset di Shaller Petra udanza, forza, extra rapido e vita al tiro Quindi moveset degno, direi E la madonna, cos'è il BGC 2000 del futuro BGC 2020, confirmed proprio Il BGC di seconda generazione, ok Io sono anche il fatto allenatore Brutto assorafica su Shaller, non mi ha tolto nulla Ok, vediamo di rompare le Pokémon, vero compagno di us Eh, forse è il caso Se non sarebbe il caso, visto che siamo ragazzi di sgoccio Mi dicono, ma l'erba qua Cioè, dove trovare i Pokémon c'è Oppure sto vagando come un deficiente a cercarla Io mi ricordo che un'altra volta sul server c'era Eh, infatti anch'io me la ricordo Allora, questo qua comunque è il percorso 44 Minchia, mi chiama mia madre ancora Anche me mi ha chiamato qualcuno Non ho visto chi ma mi ha chiamato No, ho subito Attaccato Ho subito attaccato, insomma, esatto Mia Stavacca di Milton, madonna Ok, via da casa, bye bye No, non c'è l'erba Ah, dobbiamo catturare Ok, mi sa che ci tocca catturarli nell'acqua, Luca No, devo andare a prendere le Pokémon per se Infatti, esatto, hai colto L'avevo appena depositato Eh, fa, anch'io l'avevo appena depositato Ok, intanto io ho trovato un po' di video esperienza Così, di nuovo Nei due Io ne ho due di quelli esperienza Ma no, che cosa triste Appena ci becchiamo te lo posso coltare Bella Ok, allora Io sono andato a prendere il game Ok, sì, infatti Io sono andato a prendere Mantine Che, boh Non l'ho mai catturato Però mi sapevo un po' come un d'acqua Vieni Mantine Ok, quindi adesso faremo la cattura Sul percorso 44 Vada, inizi lei Vado Allora, percorso 44 Mi butto qua In questo acqua Vada, vada Mi ha sfidato nell'acqua questo qua Chi? Ah, un allenatore Come sono nell'acqua Mi ha sfidato un allenatore Mentre ero già nell'acqua Madonna Stai scherzando? Ti giuro Cioè, è una cosa che si può fare Raga, ma si poteva fare sta cosa nei giochi di secondi Non me lo ricordavo Un petalo danza su Schaller No, ok, perfetto No, niente Calma, calma, calma tutti State calmi, caso Cazzo Cazzo Siamo qua tutti i giorni a registrare la Soul Link Cazzo A parte gli scherzi Effettivamente Ultimamente siamo qua davvero tutti i giorni a registrare la Soul Link Effettivamente non è tutti i torti con questa affermazione Ok, ok Io faccio la cattura, che dici? Io sto sfidando gli allenatori qua Un Clefable con Splash Un po' così Vediamo un po' chi è ragazzi Il 4 membro del T-4 Quarta coppia Sì, esatto Vediamo un po' Oh Dodua Che tristezza Mamma mia Che tristezza Vabbè, potrebbe andarti peggio Guardala così No, Entei Rip Per chi se lo ricorda Cos'era Terzo o quarto episodio? Mi pare Il Qua No, forse è il secondo episodio O il terzo Secondo? Era Il secondo episodio Il secondo era Ok Comunque Ma lo cerco io il Pokémon Vediamo un po' chi trovo Vai Ah, ma eccola l'erba L'ho trovata Luke Ma come? Non c'è l'erba L'ho trovata È tipo incastrata fra due laghi Ok, ho trovato il Pokémon Bellissimo Cabotops Bellissimo Buono, buono Cabotops Io ho paura di fargli molto molto male A questo simpatico Doduo Che non voglio Non voglio farmi dire Guarda, lascia perdere Che ho appena crittato con Extra Rapido Mi son preso un colpo Catturato Doduo Bello, ho preso Cabotops Bella ragazzi Ma coppia subito Buono così Come lo chiamo? Ok Ecco Doduo Come lo chiamo un altro Pokémon Un guante, maronna Lo chiamo Ho detto che ci vuoi avere un Dodrio Allora Allora, c'è delle falci, no? Sì C'è delle zappe? Sì E se lo chiamassi Pratico? No, non c'è l'accento Quindi lo chiamerò Pasquale Oddio Ci sta però Pasquale Allora Aspetta Allora, io Adesso metto un soprannome Però devo vedere la traduzione inglese Perché ragazzi Sapete che io mi piace Mi piace cercare su Google Mentre registo Quindi Chiamalo tipo I believe I can fly Chiamalo come I can fly lo chiamo No, chiamalo Mi sfugge il cantante Il cantante Non era Marley No, sicuramente A questo punto lo cerco C'è che siamo qua Ho un vuoto assurdo I believe I can fly La cantava Bob Marley Sì Eh Qua me Sì Penso Sai che non lo so Sinceramente Bob Dylan Io li confondo Bob Dylan No Bob Dylan no Non credo No, qua sicuramente Non riesco a trovare niente Penso Bob Marley Penso Bob Marley Bob Marley Sì E se no chiamalo Marley Che ci sta Vabbè ragazzi Anche se non è Bob Marley Io lo chiamo Marley Frega cazzi Sì Non me ne importa Perché io Voglio andare avanti Ok Esatto Grande Questo è lo spirito giusto Questo ho appena detto Non lo so Ragazzi Ma fate pinta di niente Comunque Comunque Raga Hashtag Merda qua sotto Che ancora vivo Incredibilmente E ancora vivo E ragazzi Segnatevelo Batterà dal colpo decisivo All'erzo Io vedo Sognatevelo Ok Io non lo faccio più Entrare in campo Perché muore Io lo so già Dopo questa gufata Basta Io ho finito Non crepa Luke tu dove sei Io sono all'entrata Della grotta gelata Ho battuto tutti gli allenatori E la madonna Aspetta che vado a curare un attimo Marley Perché sono questo qua Crepa Dopo due secondi Contati Tipo Ok Comunque Comunque C'è tipo Forza antica Extra rapida Come mosse potenti Aspetta è vero Vado a vedere il moveset di Pasquale Pasquale Fatti qua Beh Ok In cru colpo Sanguisuga Psichico Tuono shock Vabbè Come inizio non è male Come inizio non è male No non è malaccio come musse Poteva andarti molto peggio Comunque come diciamo Ok faccio la cattura Nella grotta gelata Luca Falla 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 Fai un pochino in becco Dai e dai e dai e Non vengono fuori i pokemon Moncristo Di nuovo Di nuovo Ok No Jingle Paffa Che triste Per un momento pensavo Jingle Ho fatto una poveraccia Il gioco Ok io sono anche Nella grotta Nella grotta gelata Non lo prendo nemmeno Ma che tristezza Bulbasaur Buono Bulbasaur Almeno tu c'hai il pokemon buono Dai Ok Tipo erba finalmente Oh non entra la merda La merda Come possiamo contrastare una merda Luke Con un'altra merda Quindi vai Con Pasquale Ma perché Ma Pasquale non è una merda È un bravo Perché è merda lo shot È troppo forte Bella Ah tra l'altro ringrazio Nate Tower Lo ringrazio Perché mi ha detto Che in questa gen c'è un bug Che praticamente Intanto ho catturato il Jingle Paffo Che praticamente La paralisi e il sonno Non Non influiscono sul tasso di cattura Cosa che non sapevo Quindi grazie Non me lo ricordavo assolutamente Quindi grazie ragazzi a chi lo ha detto Adesso già metti Io non me lo ricordavo Infatti adesso l'ho paralizzato Mi è venuto in mente Dove trovare un soprannome per Jinglepuff Allora Io mi sto alterando Quindi vedi di farti catturare subito Per favore Perché mi sto abbastanza incazzando Allora Dai È un Jinglepuff femmina Jinglepuff era intonato Sì sapeva che era quello che faceva addormentare tutti Sì 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 esatto Eh beh Adel lo chiamo per forza Dai ci sta Ci sta Come non chiamarlo Adel Cioè vuoi mettere Dai Bulbasaur Cazzo Non è Faccio la griglia Pasqua Che Perché Niente Dalla che non ci sta Bulbasaur Se mi sta facendo Ma quanti pochi volti rimangono Cazzo Mi sta facendo malissimo Con super zanna vabbè tanto tranchi quella di togliere sempre metà vita però mi sta facendo abbastanza maluccio diciamo super zanna di nuovo aia Minchia mi stiamo facendo malissimo comunque ci sarà uno sbattone per me nell'editing nel mettere tutti i pò Io vabbè raga ma questo sol cui sono dettagli Dici dici che lo regge un calcio rullo bulbasaur e lo regge un calcio rullo Dici che lo regge un calcio rullo di xatu dai lo regge Dixatu beh dixatu forse dai ci provo ragazzi ci provo prossimo foto segrego Si metà vita metà vita dai a posto sciala a voglia se lo regge non ti faccio la griglia per stavolta Non so l'abbaggantare ok Per agosto dai tre no 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 ragazzi perché non perché non ci sta No dai ho finito le megavall quasi in pratica friend ball Ok mi sa che balzerà la palestra a sto punto No 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 piuttosto mi sa che balzerà la cattura perché praticamente si sarà Ho suonato più due pokeball praticamente Vabbè dai jigglypuff Oddio Dicevi già jigglypuff jigglypuff non sarebbe una grande una grandissima perdita direi eh beh Direi proprio oggi sia la fine merda ragazzi mi sta facendo malissimo super zanna ancora basta ok picchiaduro Picchiaduro è una mossa davvero si Ah si non me lo ricordavo comunque nel frattempo paschuale imparato surf Dalle vigni al mare Viviamo a viaggiare uno niente niente cattura ragazzi tutte le poche voi finite olè e andiamo raga andiamo così si No bellino yes no no comunque a parte di scherzi pazzesco da cos'è un leggendario da non L'unica cosa che in che rimpiango è la genialata del soprannome ad el per il resto guarda Tanto 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 no questi sono alcuni sono la pinte sul ghiaccio Dio ok aspetta sto arrivando anch'io che ero andato indietro a depositare la gente bella lì ok Sto roba qua sul ghiaccio sarà un suicidio me lo sento E raga un suicidio perché io mi ricordo che è difficile questo qua sul ghiaccio Infatti sto non sto velocizzando nulla perché veramente devo Questa roba qua non la sapevo fare io aspetta Eh manco io manco io Allora vediamo un po' No qua partono le bestemmie te lo dico Raga io ho capito già che qua bestemmierò come Raga se siete sensibili Schippate Schippa 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 stacca stacca stanno bestemmiando stacca Stacca il bivideo Allora 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 calma no non facciamoci prendere dal panico Esatto ottima idea Luke mi è piaciuta questa tua idea Mi sono fatto prendere dal panico subito quindi ragazzi hai salvato il mio piano non salibile No Ci hai fatto? No ero convintissimo però Aspetta ma come si fa Aspetta no forse ho capito Stavo scherzando no Aspetta 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 Come cazzo si fa? No raga sul serio non me lo ricordo questo 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 puzzle specie di puzzle mio dio Eh no Ok l'ho fatto io l'ho fatto l'ho fatto Ma figa ma come fai? Grande roccia ti prendo anche cascata Mi guarda che questo è dove ho cascata E infatti E MN07 contiene cascata fondamentale per andare alla Lega Porta non vi ricordiamolo Allora Ehm Hai fatto Gio? Eh no Non ancora No cavolo qua c'è quello da lungherci Aspetta ce l'ho Da usare forza No Oddio quanto l'odio questo posto cosa qua Ti ricordi che c'è quella cosa da Da fare forza Oh minchia sì Eh sì però io sono dovevo prima pensare ad uscire da qua Io ho capito come si fa però Mi manca il passaggio fondamentale Ok ragazzi io insegno al War total forza anche se è morto ma beh si può Si può fare grazie alla regola della Nazlock poi Ok E qua ragazzi sarà abbastanza un bordello purtroppo Mi sa che Eh appunto Oh figa Io dai un bel supporto per Gio Un bel mi piace No ma sto facendo sempre lo stesso percorso Mi sento un ritardato assurdo Aspetta Siamo qua Dai Fattura Sì Cristo Sì ce l'ho fatto Grande Gio Ok qua dovevo prendere cascata Vero Sì c'è cascata le man 07 Perfetto Man 07 Tac Uuu Ulstering Perché non mi hai capito ulstering invece di quel Che lo dici Kangaskhan No io volevo fuggire in realtà Ok Eh vabbè Minchia c'è la guerra mondiale Sopra la mia a casa mia Stanno passando i jet I caccia Sì ci sono i caccia Che c'era Sì veramente Ci sono bombardando Mamma mia Ok ma io ce l'ho Sono prepellente No No io non c'ho Repellente Infatti sono abbastanza Incasinato Sei abbastanza un deficiente Io ne ho due Ma vabbè ma quello si sapeva Allora vediamo un po' se No devo andare con calma Perché sono qua Ecco sono qua Sbaglio come ho fatto adesso Ottimo così Ecco Qua bisogna veramente andarci Di veramente di pazienza Perché sono qua Si finisce male Ok io Io Mi manca l'ultimo masso Ok Devo tornare indietro No Non puoi dirmi questo Allora Calma Calma Possiamo farcela Che dici Possiamo farcela No dico che non si può fare Allora Non possiamo farcela Non si può Ok forse il primo ce l'ha inventata Ok l'ho fatto Ho fatto Finito Adesso mi Adesso devo Sì ok perfetto Allora uno ce l'ho Bella Gio Così ti voglio Bello Proprio Proprio Il masso è caduto di sotto Bella lì Bella Gio No veramente Questa mia girata era Anche l'art goal C'era questo pezzo Sì 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 C'era Sicuro Ok No fa un culo Ho sbagliato Dio bono Dio bono Ma poi rimangono al loro posto i massi Vero Sì 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 rimangono al loro posto Ecco Io mi ricordo Che rimango Diesel Diesel Allora Prendo lo strumento Che cos' Oh Sneasel Bellissimo Oddio Ho trovato la master ball No Giura Ho trovato la master ball Giuro 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 Ti giuro Tu ho trovato la master ball Non ci credo Che culo Sei una vergogna Sei Raga Sono un Sculo Luke Pazzesco Sculo Luke Per fare una città Agli opening pack Di FIFA Porco Oddio Dai Luke Non riesco Ragazzi la situazione Si è abbastanza A me stava bene Entei Ragazzi io potrei catturarlo Ma non lo farò Perché non posso Ok Che senso ha Potrei catturarlo Ma non lo faccio Perché non posso Che filosofo Il filosofo Di Luke Oltre a essere una leggenda E pure un filosofo Ok ce l'ho quasi fatta Me ne manca solo uno Bella Joe Bella Joe Mi raccomando No però mi è finito il repellente Ok è finita Rip 100% Gagni successi Dai Luke È illegale Sto posto Si bisogna dire che è abbastanza difficile I labirinti di seconda gen Non li batterà mai nessuno Eh anche Aerodactyl Non sarebbe stato male Come Pokémon Ok io comunque di ragazzi Direi che la palestra Balzerà alla prossima palestra È una balza di ignoranza La palestra Ma sicuro Comunque Oh Joe Se riusciamo ad arrivare a Debanopoli Io direi che ci possiamo fare la cattura Nell'acqua Che dice No dai Pinchia Velocizzatore di merda Metal coperta Beh la lascio qua La metà al coperta Ragazzi tanto non mi serverebbe a niente Comunque La metà al coperta Luke sono tentato di Di mutarmi No Joe Non mutarti Si sa che noi vogliamo sentire Il tuo sclerato Ok Ok Io adesso alzo la mano Dal velocizzatore La sto tenendo La sto tendendo Verso il cielo E vaffanculo Ho trovato un selvatico Chi è Chi è Dai Ancora Ma anche Ma che brutto sei Ma madonna Ma ritirati No porca No No Joe Non ci sta Non ci sta No Luke Te fai la cattura I panopoli Ok Io faccio la cattura Usando surf Ragazzi Mi prendo un po' di pokemon Perché io sono Anzi no Sono un poveraccio Ma dettaglio Ok Ricordiamo Ricordiamo che io Volendo Se trovo un pokemon Veramente Irrinunciabile Posso usare la master Così Subito E la userò Ragazzi Io non ho poco Di usare la master Quindi mi raccomando Ok Calma 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 Si nel culo Il gioco di merda Ce l'ho fatta Ragazzi Cattura le manopoli Porca miseria Di Fammi soffrire Allora Avevo appena finito Di dire che Se il pokemon Era irrinunciabile Potevo usare la master Ball Ho trovato un hop Beh dai Irrinunciabile Vabbè ragazzi No Luke E' successa una cosa assurda Dica dica Cosa sti è successo Ho tipo Ho preso due strumenti Randomizzati di fila Erano due antiscottature Bello Arcanine Minchia Arcanine ci sta Ok Io ho trovato Una foglia d'oro Si Eh Cosa sarà mai Chi è? Cos'è? Eh aspetta Devo buttare via qualcosa Dallo zaino Tipo Tipo Metal polvere Tipo tutto Tipo tutto Perché gli zaini Seconda gen Sono tipo Trocca Foglia d'oro Adesso Scopriremo cos'ha Una foglia d'oro Ok Ok Grazie Meno male che c'è il gioco Che ci dà certe definizioni Se no non ci arriverei Grazie che vi preghe Per averci inculcato Il sapere degli strumenti Veramente Grazie Un abbraccio Ci Ho comunque Adesso Do Su Pato Ma Ho Pio Giuseppe Maria Allora Qua trate Mt34 Andiamo a vedere Cos'ha Ipnosi Fa Bastanza Schifo Che bella La vita Bello Bello Ole Dai che forse Sono fuori Dai Qua non c'è nemmeno La cosa Udioso Della kimono girl Che bella Meno male In generale Perché sicamente No avanzi Avanzi mi serve Allora A sto punto Avanzi Ci sta troppo avanzi Ho buttato la foglia d'oro C'è tanto Se cazzo me ne frega Abbiamo una foglia d'oro Esatto Esatto Dai che Sarò fuori Prima o poi La love ball Che tristezza Facciamo la cattura Aspetta che poco Voli preso La love ball Love ball Dio salve Olè sono ibanopoli Vado a fare la cattura L'hai preso Alla fine Sì se lo penso Sto passando un soprannome Sto passando un soprannome Sì ok No aspetta Sto scendendo nel percorso Sbagliato Bello Stavo scendendo Mi piace Cattura nell'altro percorso Raga vi facciamo L'altro percorso In un'altra parte Ovviamente Sia chiaro Esatto Ok bello Vediamo un po' Chi mi capita Chi è Chi è Dai Allora Io Oh Io Chiamo Con nome di M'ericottero Uh buono 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 Boing No L'ho shoottato No sei serio Non ci avevo pensato Ho fatto petalodanza No Però petalodanza Pensavo che ti facesse Pensavo che ti facesse Scegliere Se fare zaino o no No Cazzo E quindi addio Hoppip Ho trovato veramente Moltissimo Questo hobby Grazie per aver partecipato Cazzo Luke ci sono rimasto male Eh vabbè Può succedere anche i migliori Purtroppo di farvi Le catture Eh vabbè Allora direi che Non è una gran perdita Anche Hoppip No No Diciamo di no Beh Allora Anche la parola Visto che abbiamo Siamo già Quindi signori miei Anche questa Tredicesima parte Della soul link Può concludersi qua Purtroppo Non siamo riusciti A battere la palestra Per questioni di tempo Mi raccomando però Passate dal canale di Luke Perché troverete appunto La battaglia Contro Sandra Esatto Tra circa Fate un'oretta Sul suo canale Giusto Passate E iscrivetevi A tutti i canali Tutti Social Tutti quelli di Youtube Iscrivetevi Esatto E non mancate neanche uno Esatto infatti Soprattutto Quello di Quello di Luke Passate da quello di Luke Già che è lì E vabbè Niente Noi comunque Come ho detto ci vediamo alla prossima Mi chiama Fab Pigliamosche Fab Pigliamosche Vi invito a lasciare un bel mi piace A commentare Risponendo alle domande del giorno Esatto E niente Come sempre Esattamente Niente dal creepy Da rocci E da Fab Pigliamosche È tutto Noi ci becchiamo in un prossimo Video Noi ci becchiamo in un prossimo Grazie a tutti.